Ho visto l'autore e dicevo prendere un bel po' di appunti. Allora io adesso passo la parola ad Ermete Realacci che è citato in questo libro due volte. L'ho citato come autore di Green Italy, un libro di Realacci pubblicato dieci anni fa, che ha avuto una certa fortuna. E poi nei ringraziamenti, perché Roberto nei ringraziamenti cita molti amici, ma in particolare due ai quali più che a chiunque altro ha comune una stessa idea di ecologismo utile. Uno è Francesco Ferrat e l'altro è Ermete Realacci a cui vi do la parola. Io inizio dicendo che Roberto è stato, a parte l'amicizia, è stato molto importante in questi ultimi decenni dell'ambientalismo perché oltre a esserne stato un protagonista ha portato dei saperi e una cultura. anche quando l'ambiente decideva le sue campagne, il fatto che avessi punti di vista diversi nel leggere le cose e Roberto introducessero, potrei farvi molti esempi in materia, i suoi saperi nell'accrescere l'impatto delle scelte. Qui devo dire una cosa, la complessità va bene, ma poi bisogna scegliere. Perché altrimenti la complessità è in potenza. C'è una bellissima frase che Tuscidide attribuisce a Pericle nel suo discorso agli Atenesi, in cui lui dice che solo noi siamo capaci di riflessione senza esserne inibiti nell'azione. Secondo me noi rappresentiamo un tipo di ambientalismo che si è appigliato le sue responsabilità e continua a appigliarsene. Per abbassare il livello da Tuscidide c'è una bella frase di Montalban, Manuel Varsquez Montalban, che è l'autore di Pepe Carvaio, che dice appartengo a una generazione che quando aveva vent'anni pensava di averne quarant'anni e non ha mai compiuto i quarant'uno. Allora, diciamo, noi siamo stati molto giovani, proiettati in conflitti molto importanti. Io ricordo, prima tu accennavi alla vicenda del nucleare, che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui non solo si è fatto un referendum, è lì perché avevamo una legge, ma anche si è fatto una manifestazione nazionale dopo Cerno di 200.000 persone e si sono bloccati tutti gli impianti nucleari in un giorno, l'unico paese al mondo. E questo è dovuto a una cultura, ma anche a un'organizzazione. Cioè, se non ci fosse stata delle regambiente, quello non sarebbe accaduto, non perché erano tutti delle regambiente, ma perché c'era una cultura che era complessa, ma poi, quando si trattava di decidere, agiva, per così dire. Io, se posso dire avere un rimpianto, ma magari ci sarà una seconda puntata, mi dispiace che Roberto, che ha scritto un testo eccellente, e ovviamente cerca di dare anche una risposta alle biforcazioni in cui la cultura ambientalista si è venuta a trovare, anche nell'analisi, per esempio, della vicenda Covid, nel senso che poi, capiamoci, ci sono ambientalisti che hanno attribuito il Covid a elementi mistico-magici e Roberto spiega bene che purtroppo le pandemie, nella storia dell'umanità, non sono mancate anche quando non c'erano i 5G, no? E anzi, hanno fatto parecchi danni e hanno orientato parecchio, diciamo, la nostra vita. Non abbia potuto aggiungere una riflessione anche su quanto sta accadendo con questa guerra di invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Anche perché questa guerra, paradossalmente, un po' come il Covid, alla fine ha accelerato un processo di metabolizzazione della cultura ambientalista nella società e nell'economia e che ha attraversato anche le politiche europee. Perché, capiamoci bene, quando l'Europa dice, poi spesso la traduzione, soprattutto in Italia, è fantasiosa, nel senso che viene tutto battezzato che però l'Europa deve puntare su coesione, transizione verde e digitale, dice una cosa che è molto simile a quella che noi abbiamo cercato di dire e di praticare per molto tempo. Una parte di questo tempo, anche in relativa a sull'idutine, io ancora mi dispiace, io non me lo ricordavo, lo ricordo Roberto nel libro, che tanto per fare esempi di persone che tutti noi stimiamo enormemente, che le Goff sosteneva che l'ambientalismo era fondamentalmente reazionario, e Umberto Eco sul manifesto ha scritto dove si trova l'ambientalismo in fondo a destra. No? E questo appartiene a una lettura che c'è stata di questo processo che era sbagliata. Perché poi, alla fine, quello che è accaduto è che se c'è stato un processo di umanizzazione dell'economia, poi il ragionamento capitalismo-mercato è più complicato e non può essere esaurito questo, molto è dovuto all'azione dell'ambientalismo. Perché se oggi noi abbiamo un'economia di segno diverso, aggiungo, che incrocia la società e la tecnologia, adesso per parlarci chiaro, anche se tanti non se ne sono accorti, no? Alcune, come era quel verso di le idee che vanno a morire senza darci un saluto, no? Cioè, alcune delle idee anti-ambientaliste, Chico magari non se ne è accorto ancora, Chico Testa, però sono scomparse, non so come dire, cioè, chi pensa che il nucleare oggi sia una soluzione? Uno che non deve fare centrali nucleari, nel senso che le centrali nucleari in Occidente non si sono fermate per il referendum, si sono fermate perché costano tantissimo, richiedono tantissimo e anche la Francia, che dice che ne vuole fare altri sei, in realtà quando le avrà fatte, fra chissà quanto tempo, l'unica centrale francese in costruzione dovrebbe essere chiusa nel 2014, a Flamanville, forse sarà chiusa nel 2023 e costa tre volte quella che è stato programmato. Anche la Francia sta chiudendo molte più centrali di quella che afferma di quelle costruire. Ma non è solo questo un esempio, quando tu accennavi a Green Italy, qual è stata la forza di questa riflessione, che poi è partita dall'Ecambiente e è diventata più pervasiva e che poi è al centro anche dell'attività della Fondazione Simbola, di cui il rapporto sulla cliente economica. e cercare di leggere nell'Italia che c'è le radici del futuro. Quello che è accaduto nel corso di questi anni è che una serie di questioni che sembravano relegate ai buoni sentimenti, in realtà sono diventate degli orientamenti molto forti per l'economia. Lo dico in termini un po' brutali. Oggi, se uno guarda l'economia italiana con meno pigrizia, scopre che essere buoni conviene. Cioè, che una linea, se vogliamo, vetero-industriale o vetero-padronale, possiamo anche dire, in realtà non produce le imprese che vanno meglio. Perché le imprese che vanno meglio sono quelle che investono sulla coesione sociale, che investono sul green in senso lato, e sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Questa chiave di lettura, questa nella politica non è molto forte, nell'informazione politica non è molto forte. Ancora oggi vedi i dibattiti televisivi, in quelli che non hanno azzeccata una, continuo, adesso io ho i miei foto, non dico il nome perché sarebbe indelicato, c'è un notissimo economista dell'energia, che io ricordo anche dei fatti personali, nel senso che è l'unico che una volta, perché questo me lo ricordo, ma all'inizio di questo millennio, disse che solo un ambientalista bucolico come Rialaccia, questo bucolico è l'unica volta che sono stato definito, poteva pensare che le rinnovabili avrebbero giocato un ruolo significativo nella produzione dell'energia elettrica. Infatti, appunto, vediamo quello che sta accadendo, diciamo. Allora, quella posizione che divide ancora anche l'ambientalismo, perché parliamoci chiaro, l'ambientalismo in Italia è frenato dalla burocrazia, ma anche da una, diciamo, vulgata ambientalista che blocca le rinnovabili. L'anno scorso l'Olanda ha avuto 3.000 megawatt di fotovoltaico, l'Italia 700, l'Olanda è grande quanto la Sicilia e la Calabria, e ha molto meno sole dell'Italia. Quindi è chiaro che abbiamo un problema, e molto è dovuto anche a una visione dell'ambientalismo che non fa i conti con le sfide, perché poi l'ambientalismo è forte se poi è una risposta all'insieme delle questioni che poi vengono poste dalla vita, dalla società, dalla politica. C'è una bellissima frase di Langer che io ho sempre condiviso e che con Roberto abbiamo sempre condiviso e cercato per quanto possibile di interpretare nella nostra azione perché lui una volta ha detto la conversione ecologica si affermerà quando sarà socialmente desiderabile. Socialmente desiderabile non è una cosa... Socialmente desiderabile significa lavoro, significa coesione, significa identità. perché se non c'è orgoglio in quello che fai, non lo fai. Adesso, per essere fedele ai tempi che ci sono stati giustamente dati, anche il tema della patria è molto importante in questo. C'è una sinistra che ha, a un certo punto, abdicato a presidiare quel tema, secondo me ha abdicato a un pezzo della sua storia, perché le lettere dei martiri della resistenza fanno vedere che qui non è che morivano per la caduta tendenziale del saggio di profitto. Morivano per la patria, per la famiglia, per l'onore. C'è una che mi procurò Roberto, credo, che è bellissima, da questo punto di vista, è di un faregname comunista fucilato a Roma e dice queste cose qui. Allora, aver abdicato al presidiare pezzi di cultura profonda, che sono stati anche una parte importante della storia di sinistra, secondo me è stato un errore. E c'è stata a lungo un'idea che, secondo me, descrisse molto bene in un faccia a faccia avuto su Nuova Ecologia con Ruffolo, era un faccia a faccia tra Ruffolo e me e Langer, perché Ruffolo, che era una persona di grande cultura, disse che l'ambientalismo era un sintomo e che era la sinistra, era la cura. No? Noi non abbiamo mai accettato questo. Noi abbiamo pensato che l'ambientalismo doveva essere conscio dei suoi limiti, non pensare che fosse il mondo, non so come dire, ma era una cura o non era. Cioè l'idea dell'ambientalismo che fosse sostanzialmente il pianista dei film western, che la poteva sparare grossa, senza fare i conti, diciamo, con quello che poi doveva accadere, non mi ha mai affascinato, diciamo. E questo libro cerca di percorrere anche con, insomma, riferimenti culturali infiniti. Cioè, per esempio, io ho sempre pensato che Blade Runner era più importante di Bambi, per certi aspetti, nel far capire come la sensibilità ambientale doveva fare i conti con i futuri possibili. Nel libro è originato anche Ecotopia di Kallenbach, che era un romanzo di fantascienza molto interessante. Insomma, un ambientalismo che volesse essere anche una cura è quello di cui noi oggi abbiamo bisogno. In parte questo ambientalismo c'è nell'economia e nella società più di quanto ci sia nella politica e nella Emilia, nel racconto della politica, che non leggono questi fenomeni e quindi corrono il rischio di non sviluppare le potenzialità che ci sono. Secondo me il libro da questo punto pone dei temi centrali, lo fa con la metodologia di una lettura storica, ma in realtà parla anche del futuro.